L'errore di Capitan Salvatori e il successivo gol di Shiba nella lotteria dei calci di rigore regala il passaggio del turno preliminare di Coppa Italia al Porto d'Ascoli sul Nereto. Nel prossimo turno i marchigiani se la vedranno con la vincente di Chieti e San Benedettese. Davide Ciampelli, autore della prima storica promozione in quarta serie del Porto d'Ascoli, schiera i suoi con un accorto 4-5-1 con l'ex Castelnuovo Verdesi, più attivo dei suoi nel primo tempo, sulla destra è un'altra conoscenza del calcio bruzzese Giordano-Napolano come terminale offensivo. Senigalliesi nella sua nuova avventura a Nereto che ritrova dopo più di vent'anni la serie D, non abbandona il suo 4-2-3-1, Salvatore e Tinti e la coppia di centrali difensivi, Bottalico e il metronomo di centrocampo in avanti, il terminale offensivo e l'ex Vado pedalino. Buono l'approccio dei Rosso-Blu alla gara con un discreto possesso palla che produce il primo pericolo all'ottavo minuto quando il Nereto conquista un calcio d'angolo che Cipriani mette in mezzo trovando la sponda di Salvatori ma la conclusione è verso la porta di Mirabelli e debole per impensierire il portiere di casa. Il Nereto prova a sfruttare il gioco sulle fasce per liberare soprattutto la velocità di Oedraogo come al quarto d'ora quando l'ex Aprilio approva dalla distanza dopo una giocata di Fino ma la conclusione non impensierisce testa. Sul capovolgimento di fronte si vedono per la prima volta anche i padroni di casa ma la conclusione di Verdesi liberato davanti alla porta da Napolano e respinta da De Luca in uscita. Gli uomini di Ciampelli giocano una fase difensiva molto attenta chiudendo bene tutte le linee di passaggio allora per sbloccare la gara servirebbe un tiro dalla distanza come quello provato al 35esimo da Forcini ma a dire di no al numero 11 è una bella respinta con i pugni del portiere. I padroni di casa provano a sbloccare la contesa sul tramonto della prima frazione di gioco quando Verdesi trova in aria Napolano con la conclusione che per poco non beffa De Luca sul primo palo nonostante la temperatura ancora estiva nella ripresa la gara si anima maggiormente per merito della squadra di casa tornata sul terreno di gioco con più verbo offensiva e lo si vede subito al quarto d'ora quando Napolano si libera al tiro dalla distanza con la palla che schizza sul terreno di gioco e finisce di un niente fuori e il preludio al gol del vantaggio che arriva poco più tardi con Battista bravo a credere in una palla apparentemente persa in aria e con il destro a trafiggere De Luca il gol subito toglie alcune certezze al Nereto che non riesce più nemmeno a palleggiare come ottimamente aveva fatto fino al gol dei padroni di casa ospiti che rischiano di capitolare per la seconda volta ma è bravissimo De Luca a distendersi sulla destra per dire di no a una punizione calciata ottimamente da Napolano gli abruzzesi però hanno dalla loro la bravura di crederci fino alla fine e in pieno recupero trovano il gol del pareggio con una girata all'interno dell'area di rigore con Mirabelli ai calci di rigore sbagliano per il Nereto Uedraogo e Salvatori mentre sono decisive per i marchigiani le parate di testa e la rete finale di Sciba domenica testa al campionato per il Nereto subito da Erbiacchieti mentre per il Portodascoli sfida interna contro il Matese Al primo tempo siamo stati molto bravi siamo stati equilibrati, abbiamo giocato con lucidità, con calma eravamo ben messi sul campo ci è mancata forse un pochino di sprint nella fase della finalizzazione però abbiamo gestito bene, molto bene il primo tempo e questa è la nota molto positiva abbiamo anche rischiato qualche contropiede ma se tu vuoi fare la partita è normale che questo possa succedere nel secondo tempo in questi periodi è normale che si possa stravolgere totalmente tutto l'aspetto tecnico-tattico perché entrano in ballo poi gli aspetti comunque fisici il caldo era devastante e oltre a questo noi avevamo tanti giocatori che sono arrivati da poco e che quindi a mio parere non hanno i 90 minuti sulle gambe come si usa dire Mi pare di capire che però non è così troppo preoccupato No, assolutamente no le dico la verità non mi aspettavo una squadra con così tanta personalità con coraggio perché a questi livelli essere padroni non dell'avversario ma del gioco con la consapevolezza dei rischi che si corrono è già tanta roba quindi sono fiducioso c'è da lavorare il campionato è tostissimo un girone difficilissimo quindi questo è stato il primo step mi dispiace per la società perché so che ci teneva a passare questo turno Sì, siamo contenti siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita i ragazzi si sono comportati molto bene la squadra è stata sempre bene messa in campo dal mister sia il primo tempo che il secondo tempo il primo tempo nel reto ha giocato più palla ha avuto più controllo del gioco anche se noi abbiamo ripiegato alcune volte ma siamo ripartiti anche bene poi il secondo tempo secondo me la squadra ha fatto di più ha fatto di più meritando il vantaggio poi dopo peccato che abbiamo preso il gol a tre minuti di recupero ci ha portato ai ricalci di rigore però come società come esordio in Serie D anche se è Coppa Italia la società è molto felice Domenica l'esordio con il Matese sarà una sfida difficilissima quale sarà l'obiettivo comunque in generale per il campionato del Porto d'Ascoli? L'obiettivo del Porto d'Ascoli è sempre fare bene cerchiamo sempre di fare bene dopo l'esploi che abbiamo fatto l'anno scorso quest'anno proviamo a fare questa prima esperienza in Serie D sappiamo che il campionato sarà difficilissimo e anche la prima partita già con il Matese sarà molto difficile quindi noi portiamo avanti il discorso di un'organizzazione di una società e di una squadra per fare sempre bella figura anche in Serie D